Si chiama CyberHelp, il programma di incontri con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di Cavriglia ed esperti di cyberbullismo. Un programma nato per dare una consapevolezza dei rischi che gli adolescenti possono trovare in rete a 360 gradi. Già nello scorso anno, insieme al Corecom della regione toscana, sono stati organizzati degli incontri proprio per sensibilizzare su questa tematica e attenzionare. Con la collaborazione dell'ASL Toscana Sud-Est, gli incontri con gli studenti si svolgeranno il 29 marzo e il 5 di aprile presso la Sala Poggi di Castelnuovo dei Sabbioni. Saranno a cura del dottor Salerno, che è il dottore che ha seguito il progetto CyberHelp. CyberHelp è un progetto un po' più ampio perché è un progetto nato dagli istituti di tutto il Val d'Arno, attraverso la RISVA. Licei di San Giovanni con la professoressa Bacci sono la scuola capofila di questo progetto. Un incontro finale poi è previsto il 10 aprile al Teatro Comunale di Cavriglia e sarà aperto a tutta la cittadinanza.